Anche la Russia potrebbe presto unirsi alla lista dei paesi dove fumare nei luoghi pubblici è vietato. Il Parlamento sta dibattendo una legge che bandisce le sigarette da uffici, scuole, università e ristoranti, ma anche da luoghi all'aperto come parchi giochi e stazioni. Il provvedimento, che risponde a una proposta del premier Medvedev, verrebbe introdotto gradualmente da qui al 2015. Forse la gente comincerà a pensarci, forse questo porterà la gente ad abbandonare questa brutta abitudine. In generale sono d'accordo, ma nei luoghi pubblici bisognerebbe fornire alternative come cabine per fumatori. Mentre una petizione contro la legge ha raccolto 165.000 firme di rivenditori e lavoratori del tabacco, questo lunedì, giornata nazionale antifumo, si sono svolte manifestazioni a favore della norma. Come insegna l'esperienza dei paesi civili, dell'Europa, quando si introducono leggi che funzionano, la vita cambia in meglio. In Russia i pacchetti di sigarette riportano la scritta Il fumo uccide. Nonostante ciò, 44 milioni di persone sono dipendenti dal tabacco e 400.000 muoiono ogni anno per disturbi correlati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.